Amici carissimi, ben ritrovati in un nuovo video. Oggi abbiamo un nuovissimo prodotto, Be Quiet. Ovviamente sapete che Be Quiet è mio sponsor. E abbiamo il Light Loop 360 mm, che è uno dei nuovissimi dissipatori a liquido, che sono stati presentati nelle scorse settimane. Grazie al Corriere per avermi anche fatto un bel buco sulla scatola. Allora, di che cosa stiamo parlando? Parliamo di dissipatori a liquido, ad alte performance, che sono stati presentati qualche settimana fa e che vengono venduti in due versioni, bianche e nere, da 360 mm e 240 mm. Quindi in questo video, principalmente, vedremo all'interno della scatola che cosa c'è e quali sono le principali caratteristiche. E poi, in un secondo momento, andremo semplicemente a provarlo su una serie di processori. Sapete che comunque i prodotti Be Quiet sono dei prodotti che abbiamo visto essere sempre di ottime performance, ottima qualità. Libretto di istruzioni, qui vedete le varie versioni del Light Loop. Vi dice anche come montarli su vari socket, tra cui LGA 1700, 1200, 1151, 1155, 1150. Togliamo da mezzo queste cose qui. Allora, la prima cosa che io vedo è che, vabbè, le ventole sono tre e non sono ventole che hanno un sistema di aggancio rapido, ok? Tipo desi chain, tipo le nuove, i nuovi sistemi di aggancio di altri dissipatori, ok? Sono tre, sono le nuovissime, tra l'altro, Light Wings. Queste sono le LX White che poi vedremo in un futuro video, le vedremo nel dettaglio. In realtà sono delle ventole con un nuovo design, sempre a nove pale, che hanno il doppio connettore, quattro pin PVM per la regolazione della velocità e il pin per gli RGB. Ma questa è una cosa che praticamente poi vedremo in un secondo momento. All'interno della confezione vi arriva il controller. Questo è sempre uguale, diciamo, non cambia mai. Ed è un controller che può essere inserito nei case, negli slot degli SSD e che vi permette di controllare con un unico dispositivo fino a sei ventole, sia dal punto di vista della regolazione PVM che dal punto di vista degli RGB. Ovviamente necessita di una alimentazione ausiliaria tramite alimentatore SATA e questo poi, anche questo, vedremo in un secondo momento. Abbiamo vari sistemi di montaggio. Noi useremo sia quello, vabbè, Intel che quello per AMD e vedremo anche una particolarità del sistema di montaggio AMD. Ma quello che mi preme è vedere il nuovo radiatore, perché dalle foto e dai video sembrava veramente carino. E infatti, eccolo qui, questo qua, praticamente il nuovo diffusore unico sulla pompa, tutto RGB che, diciamo, è un nuovo sistema sia dal punto di vista del del circolo di acqua che dal punto di vista dell'illuminazione. Quindi questo era quello che mi interessava. Anche in questo caso singolo quattro pin PVM per la pompa con la RGB. E andiamoci a vedere anche la parte del radiatore. E qui, infine, nella scatola troviamo l'acqua che, diciamo, può essere travasata all'interno se vogliamo, in qualche momento, fra un po' di tempo, fare un refill del nostro, ok, dissipatore. Ok, questo qua è il dissipatore che, tra l'altro, ha una nuova, un nuovo design qui, ha questa trama e zigrinata, ok? E adesso, in questo momento, che cosa farò? Andrò a prendere, praticamente, le mie ventole, eccole qua, e piano piano me le andrò a montare tutte quante in modo, poi, da poter montare il radiatore direttamente sulla bench, ok? Radiatore bianco, viti, tutte quante nere. Vabbè, non fa niente. Su questi sono dettagli. Allora, raga, diamogli un'occhiata pure da vicino, soprattutto acceso al water block, con gli RGB e alle ventole. Allora, come potete vedere, l'effetto è veramente carino. Noi abbiamo un totale di oltre 60 led a RGB, tra ventole e water block, che ha un unico diffusore, un monoblocco, che è bello luminoso. Raga, ho difficoltà a farvi vedere, in realtà, per bene, l'effetto con tutte queste alette, e mi ricordano quasi quei vecchi carter dei motorini 50 negli anni 2000, non so se avete presente quando avevano quei carter con le alette, ed è molto carino. E sotto, poi, abbiamo la parte della piastra di contatto. È molto luminoso, quindi è un ottimo effetto, specialmente magari in case bianchi. Adesso noi lo andiamo a montare, ok, sulla bench, sul 7600X, e poi vediamo un po' come si comporta. Allora, raga, questi qua sono i due, le due staffe di metallo per AMD, che vanno bene sia per AM4 che per AM5. Però, come potete vedere qui, sia nella staffa superiore che in quella inferiore, ci sono due buchi. Cioè, i primi due buchi sopra con un 8, non so se si riesce a leggere, e invece i buchi sotto con 0, perché voi potete scegliere se montare, ok, il waterblock, preciso sul processore o con l'offset di 8 mm. Adesso io vi prendo, per esempio, un processore AMD. Eccolo qua. Va bene, prendiamo questo qua, che è il 7900. Il punto più caldo del processore non si trova al centro, ok, ma si trova leggermente spostato, se non mi sbaglio, verso l'alto, ovvero in direzione dei CCX con i core. Quindi voi potete montare, in realtà, il waterblock, in modo tale da avere un offset sul processore e puntare il centro, ok, del waterblock, sulla parte superiore della CPU, in modo da raffreddare meglio. Ok, abbiamo avvitato anche il waterblock, che è bello ancorato. E adesso finisco di montare il tutto e lo accendiamo. Allora, ragazzi, in realtà sono passati un paio di giorni, perché ho provato un po' questo dissipatore su una serie di processori e in vari scenari. Però in questo momento vi farò un breve riassunto di quelle che secondo me sono le temperature che ho visto e di come si comporta in generale questo dissipatore da 360 mm. Sono in questo momento col 7600X, che come sapete consuma anche un po' di più del 9600X e con un precision boost overdrive, quindi un PBO abbastanza spinto, perché sono con 200 MHz di max CPU boost clock, quindi sono in override positivo, ho sistemato la curva e volendo io posso anche, voglio dire, disabilitare i limiti. Vedete, io posso anche tranquillamente disabilitare i limiti del PBO, non mi interessa più di tanto, quindi con un processore che sicuramente consumerà più di 120 Watt andremo a vedere quali sono le temperature. io in questo momento salvo e ovviamente riavvio, così vedremo un attimino su Cinebench come si comporta il be quiet in questione. Su Cinebench il 7600X, che come abbiamo visto è in una condizione di PBO abbastanza spinta, dovrebbe superare i 120 Watt, come già in realtà ho provato in questi giorni, infatti tocchiamo i 126 Watt con delle frequenze che toccano e superano i 5,2 su tutti i 6 core. qua non è che stiamo parlando del boost sul singolo core, ma tutti i 6 core del 7600X in questo momento viaggiano a oltre 5,2 GHz. Vi ricordo che il massimo che questa CPU potrebbe toccare sul singolo core è 5.3 da specifiche e le temperature sono al di sotto dei 90 gradi, quindi comunque un dissipatore da 360 mm che si comporta bene e sinceramente su un processore del genere è anche un po' sprecato, diciamoci la verità, un 360 già un 240 regge tranquillamente uno stress del genere con questi carichi e con queste frequenze. adesso però la cosa più interessante è che andrò a togliere il 7600X e a mettere il 7900X che è un processore diciamo un po' più alto come temperature e soprattutto come numero di core, essendo 12 core voglio dire vediamo come si comporta e vedremo che anche in questo caso col 7900X non avevamo grossissimi problemi. Allora sotto a chi tocca il 12900X io attivo l'XMP dopodiché vado nei timing e semplicemente io vado ad attivare il memory context in modo tale ecco qua che ogni volta non mi vada a fare le prove, dopodiché vado in advance e nella sezione dell'overclock accetto, vado nel pbo e anche qui io in advance vado a togliere i limiti, vado ad attivare un profilo di più 200 MHz massimo e attivo una curva negativa di 20 millivolt, proviamo così, dovrebbe essere stabile così faccio ok e vediamo che succede. Con il 7900 saliamo a oltre 180 watt sulla CPU come potete vedere stiamo parlando di un 12 core secco quindi un 12-24 che è a 5,2 circa su tutti e 12 core, quindi una frequenza parecchio spinta su dei core effettivi e il processore non supera gli 87-88 gradi quindi a 180 watt è un ottimo risultato in multi core cioè in un applicativo pesante che va a caricare il 100% su tutti e 12 core, voglio dire un'ottantina di watt ovviamente il 360 mm in questo caso si comporta molto bene e non abbiamo nessun tipo di problema se noi dobbiamo andare a sfruttare anche delle CPU un po' più energivore e sono convinto che anche su altri processori più energivori come il 7950, il 9950X e queste serie qua ha processori come il 149K che sono notoriamente delle CPU che consumano tanto e sicuramente si riesce bene o male a trovare il giusto equilibrio di prestazioni e temperature quindi tutto questo per dirvi comunque che le temperature almeno su una serie di processori AMD sono fondamentalmente nella norma. Allora ragazzi che cosa dire sicuramente un prodotto valido abbiamo visto che si comporta alla fine bene sulla maggior parte dei processori anzi ormai avere dei dissipatori da 360 mm forse in qualche caso è anche un po' sprecato l'aspetto delle performance fermo restando che stiamo parlando comunque di un prodotto di una certa qualità l'aspetto delle performance sta un po' passando quasi in secondo piano sia con i nuovi AMD che hanno avuto un calo dal punto di vista dei consumi sia in generale quelle che sono ad esempio le necessità di dissipazione di alcuni processori anche per il gaming vedete il 7800X3D o comunque Intel non di fascia altissima ma certo se avete un 14900K magari sentirete la mancanza all'interno di una line up di dissipatori del genere di un 420 ma il fatto che non ci sia un 420 come prodotto di Hipcool ci fa capire che forse è il processore che non dovrebbe avere necessità di un dissipatore del genere lasciamo perdere questi in ogni caso le performance sono buone non sono sceso nel dettaglio questa non è una recensione ok nel dettaglio di confronto con altri dissipatori per andare a vedere grado più o grado meno quale sia migliore perché comunque voglio dire ormai il trend dovrebbe essere quello là un'efficienza maggiore su tutti i dissipatori e quindi su tutti i processori e quindi spero che da qui in avanti noi faremo sempre meno discussione sul grado in più o il grado in meno sicuramente la parte del design invece l'aspetto estetico in questi anni è andato molto 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 a ritagliarsi un'importanza all'interno dei prodotti quindi ecco sicuramente un dissipatore molto gradevole dal design veramente bello che secondo me sarà ottimo in accoppiata con alcuni case che vedremo in futuro di Be Quiet come Light Base o altri prodotti quindi sicuramente non è un aspetto da non tenere in considerazione il fatto che comunque si tratta di un buon prodotto per quello che costa 130 euro il 2,40 super giù ma anche se si toccano i 160 euro per il 3,60 beh mi sarei forse aspettato qualche innovazione piccola innovazione in più non tanto dal punto di vista del radiatore e della pompa che sicuramente sono ottimi va bene è stato anche rivisto il circuito della pompa e dell'acqua quindi sicuramente sono ottimi ma più che altro sulle ventole perché è vero che sono state implementate le nuove Light Wigs LX però magari un sistema di aggancio rapido non ci sarebbe stato male su un dissipatore del genere che comunque non è che costa poco non costa nemmeno tra i più costosi perché siamo abituati anche ai dissipatori che toccano e superi i 300 euro però voglio dire questo è un dissipatore di buona qualità che mantiene buone ottime performance be quiet è sicuramente sinonimo di affidabilità cioè voi nel momento in cui comprate un dissipatore del genere a meno che non beccate il prodotto difettoso cioè difficilmente vi può creare dei problemi dopo poco tempo sono prodotti che durano molto silenzioso quando viene tenuto a regimi medio bassi però qualcosina magari per la prossima volta e per i prossimi futuri dissipatori perché no magari be quiet può pensare di implementare non lo so un sistema di aggancio delle ventole senza tutti questi cavi che purtroppo ahimè ci dobbiamo ancora subire detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me giù in descrizione vi lascio qualche informazione in più riguardo questi nuovi prodotti e vi do appuntamento ad un prossimo video ciao ragazzi a presto a presto a presto Grazie per la visione!